Nuovo giorno, nuova tappa e dopo Cannes ci siamo svegliati a Marsiglia ed ecco la Cattedrale La Maior. Davvero affascinante, vi portiamo a visitarla all'interno. Ma ovviamente prima il nostro modello Mirko. Ci hanno detto di far silenzio e quindi ci siamo impegnati, forse. Davvero enorme e piena di luce. E ci catapultiamo alle baniere che da un posto degradato sono riusciti a crearne il cuore della città con tutti questi meravigliosi murales. Affascinanti casette strette ed è come vivere all'interno di un film. E noi ovviamente ce lo siamo anche danzato con delle onde magiche. E' come passeggiare all'interno di un libro dove si possono notare tantissimi e bellissimi murales, colori e vera arte. E dei negozietti piccolini davvero fantastici. Ma ovviamente lui ritorna in se stesso e si ricorda che viene dalla giungla. Arte, colori e turismo è ciò che rappresenta il quartiere Lepanier. Adesso è il momento di andare alla cattedrale di Notre Dame. Una grandissima basilica che si trova nel centro più alto della città. E da lì si può davvero ammirare tutto lo splendore della bellissima Marsiglia. Ciao!